Musica Gianni Colascioli dal partito radicale transnazionale, il 39esimo congresso, è a Roma all'Hotel Summit. Siamo al secondo giorno in compagnia di Ugo e di Guglielmo Grau che è un attivista dell'associazione Azione per la Democrazia, lo ho detto in italiano e in spagnolo Azio per la Democrazia, è catalano veramente. Qui ovviamente Ugo si presta a fare gentilmente da interprete. Gli diamo l'operatività di questa azione, che cosa fa questa associazione, che sappiamo ha una modalità di operazione con un collegamento con il movimento dei Nignalus. E molti altri, sì. E molti altri. Allora, la pregunta. Che cosa si occupa la associazione, di che si occupa la tua associazione e il tuo attivismo e la tua attività in questo? Nosotros lavoriamo per la reforma del sistema electoral in Cataluña, per le elezioni al Parlamento di Cataluña, a livello autonòmico. Nel futuro pensiamo anche per modificar il sistema electoral delle elezioni al congresso delle diputate. Allora, loro lavorano per la modifica del sistema elettorale catalano, quindi a livello regionale, del sistema elettorale regionale. In un futuro pensano di occuparsi anche del sistema elettorale nazionale. Nosotros estamos interesados en introducir la figura del diputato uninominal, elegido in una circunstituzione uninominal. Y en España, debido a nuestra Constitución, esto solamente es posible mediante il sistema alemán, il sistema mixto. Allora, l'idea è quella di fare eleggere il cosiddetto deputato uninominale, che rappresenta una circunstituzione, e in España questo è possibile solo con l'adozione del sistema tedesco, che è un sistema misto, quindi misto federale, misto maggioritario e lista. Allora, la reforma electoral ora è un tema di molta attualità in Cataluña e in España, debido al movimento dei indignati, una delle principali peticioni era modificar il sistema elettorale, perché il suo lema, la sua frase era «non lo representano». Allora, adesso è molto attuale il cambiamento, un'eventuale riforma del sistema elettorale, appunto per il movimento degli indignados, perché uno dei loro motti era «questo sistema politico non ci rappresenta». Quindi appunto il cambiamento del sistema elettorale per essere più representativo. Quali le collaborazioni? Le, perdón? Quali le collaborazioni? Ah, sì, di hecho somos un'entità, un'associazione totalmente independiente, non ha nessuna affiliazione con nessun partito, né nessuna ideologia concreta. Entre i nostri socios e la nostra Junta Directiva sono representate tutte le ideologiche, ci sono persone di tutti i partiti possibili, e stiamo lavorando con diversi entità a la volta, desde alcune istituzioni civili, club privati di debattere, hasta, per esempio, il movimento degli indignati. Dicono che la loro associazione è un'associazione totalmente independente, non fa parte di nessun partito, infatti al suo interno ci sono membri di qualsiasi tipo di ideologia, appartenenza. e, a prescindere da questo, hanno collaborazioni con entità di tutto tipo, da entità di circoli culturali di dibattito, fino a movimenti come gli indignados. Il post-Zabatero può essere utile a questa battaglia? Il post-Zabatero può essere utile a questa battaglia? Bueno, veiamo, la dinamica della politica catalana, in questo tema, sta totalmente desligata dalla dinamica della politica a livello spagnolo. Quindi, Mariano Rajoy, il nuovo presidente del governo, non ha mostrato ningún interesse per la riforma elettorale a livello di tutta Spagna, Allora, dice che la politica in Cataluña è totalmente diversa e non ha niente a che fare, nessuna relazione con la politica a livello nazionale. Infatti, Mariano Rajoy, il futuro capo del governo eletto nelle ultime elezioni, non ha mostrato alcun interesse per un eventuale cambiamento o modifica del sistema elettorale spagnolo. A livello catalano, hace 30 anni che non esiste la legge elettorale, hai una legislazione elettorale provvisionali, e durante questi 30 anni ha avuto diversi intenti di arrivare a fare una legge e di elegire un sistema elettorale, però ninguno ha tenuto esito. In Cataluña, invece, è da 30 anni che non c'è una legge elettorale, c'è un sistema provvisorio che da 30 anni che vive, sono stati vari intenti a livello legislativo per arrivare a una riforma organica della legge elettorale, ma nessuno ha avuto esito. Dice che nel ultimo anno i due partiti maggioritari a livello regionale, quindi la sezione catalana del PSOE e Convergenza e Unio, sono arrivati a un accordo di base, che in futuro potrà essere preso in considerazione per un accordo a livello politico o per l'inizio di un lavoro nel Parlamento catalano. Ambos partidos, de hecho, l'accordo di base se basa en la experiencia de los sistemas de Alemania y de Escocia, es decir, del sistema mixto. Quindi, questo accordo di base è preso appunto all'esempio del sistema tedesco da una parte e scozzese dall'altra. La collaborazione e il collegamento con i radicali, con il Partito Radicale Transnazionale, qual è? Nosotros collaboramos muy activamente con Barcelona Radical, que es la asociación que defiende los principios del Partito Radical en Barcelona, e poi il Partito Radicale, qui in Italia, ha sempre tenido un'attività molto grande nel campo della reforma elettorale e, de hecho, recientemente estuvo muy implicado en la fundación de la Lega Perón y Nominale, que va más allá porque pide el sistema mayoritario puro que nosotros no podemos pedir en Cataluña por un motivo de la Constitución. Ok, allora, la collaborazione con il Partito Radicale è molto attiva a Barcellona attraverso la stazione Barcellona Radicale, che è la portatrice dei principi radicali a Barcellona, mentre con i radicali italiani c'è una collaborazione per quanto riguarda le tematiche, perché noi qua abbiamo, in Italia, abbiamo la Lega Perón y Nominale, che va anche più in là delle loro pretese, perché la Lega Perón y Nominale chiede il mayoritario puro, che loro per una questione costituzionale non possono chiedere, infatti in Spagna deve esserci anche una parte rappresentativa, proporzionale per l'Istituto. Nella nueva revista de Acción para la Democracia que presentamos en este Congreso hay una entrevista que nos concedió de Mabonino sobre el tema de la reforma eléctorale, explicando toda la experiencia italiana de diversos cambios, que es muy interesante y que ha causado un gran impacto en Cataluña. Nella revista que han portado al nuestro Congreso, appena uscita de la loro associación, hay una entrevista de Mabonino que ha conceso durante el año pasado en la que explica los últimos cambios de la ley eléctorale en Italia y que ha tenido mucho impacto en Cataluña. Allora a questo punto noi ringraziamo Guillermo e Ugo che ci ha fatto da interprete e gli auguriamo buon congresso. Grazie Gianni. Grazie a te.